Mi raccomando Domenica, bisogna andare al voto, io lo so che siete stupi, seccati, ma la migliore contestazione si fa con la matita, andate a votare, dedicate 10 minuti della vostra esistenza ai prossimi 5 anni della città di Napoli, votate lettieri, datevi fiducia per il cambiamento, il cambiamento siamo noi. Perché Napoli deve cambiare? Se noi sappiamo mandare avanti le persone giuste e non ci arrendiamo, le cose cambieranno e Napoli deve vincere perché Napoli è la migliore città del mondo, Napoli ha bisogno di un interico del sindaco. Guardate i due modelli di città, il modello di città del sindaco uscente che fa verso il degrado, la desolazione, l'isolamento, la decrescita, il modello di città che ho in mente io che va verso la crescita, lo sviluppo, l'occupazione, il ripristino dell'assistenza agli anziani di Salvini, un modello di crescita, un modello di città che va verso la serenità. Possono dire quello che vogliono, fare dell'ironia, prenderci in giro, ma noi napoletani, Napoli, la mia vera volta difficoltà a dire dove abitava via Alessandro Poeri, piazza Capitrali, quelle zone, ma dopo un po' ho capito che invece quella era un plus, non era un fatto negativo e allora oggi sono fiero, ancora più fiero, sono fatto spazio nel mondo dell'impresa puntando sulla mia voglia di fare, sulla mia tenacia, sulla mia determinazione e questo magari non piace a tutti, non piace ai figli di papà, non piace ai concorristi, non piace ai piccoli santorari del progetto di questa città e da questo momento mi interessa solo conquistare la fiducia vostra e di tutti i napoletali perché la scelta che ho fatto è irreversibile. Loro ci devono dare una legge speciale, una legge obiettivo per poter ripartire. Ovunque noi andiamo, dovunque noi andiamo, siamo i più bravi di tutti, svegli, pronti, intelligenti, siamo grandi, tenati lavoratori. E io ci credo, io lo voto a Lettieri e lo sto dicendo a tutti quanti, votatelo pure voi perché Napoli deve cambiare. Napoli come sindaco ha bisogno di Lettieri. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Abbiamo preso più giovani in assoluto. Ce la farai, ce la farai, ce la farai. Ciao sindaco! Mi sono riferito del sindaco! Grazie per la visione!